allora allora oi 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 siamo arrivati siamo arrivati e che ne so magari vorrei andare di lì ma capisco quale è peggio tieni su poi ce la faccio questo è andato a puttane cambia braccio aspetta anche dai di qui e di lì ma forse è meglio che vado di lì e qua adesso è puntato quindi quindi pizza andiamo di là uno due vai o ci sei vai vai aspetta aspetta grazie grazie a tutti